Da questa settimana e fino ad agosto è aperta e operativa la sede del Comitato Feste Patronali di Lucera, ubicata presso la Sala Giorgio Lapira in Piazza Duomo 15. Il Comitato Feste, ricordando che il Ferragosto Lucerino è da sempre festa della comunità perché rinsalda l'appartenenza alla città e alla diocesi attorno al trono di Santa Maria Patrona, invita i fedeli e i cittadini a contribuire attraverso l'indispensabile offerta utile per la realizzazione del programma dei festeggiamenti. Il Comitato specifica che con le offerte che verranno raccolte si provvederà all'allestimento del trono della Madonna e addobbi in cattedrale, stampa del materiale di devozione e di comunicazione, installazione di luminarie, spettacoli e trattenimenti di bande musicali, realizzazione di fuochi pirotecnici. Anche quest'anno il 10% del ricavato delle offerte sarà devoluto a un'opera di carità che verrà individuata dal Vescovo Giuseppe Giuliano tra i micro progetti portati avanti dalla Caritas Italiana. Le offerte potranno essere effettuate direttamente presso la sede del Comitato Feste Patronali in Piazza Duomo 15, tramite conto corrente bancario o tramite conto corrente postale.